L'ultimo appuntamento del calciomercato alla Bambù di Borgomanera, l'occasione anche per presentare un anno da campioni, il libro realizzato da Guido Ferraro e dalla sua squadra. Prima di parlare del libro, Guido, un bilancio su questo mercato che oramai si sta per chiudere? Beh, insomma, il mercato oramai, più che un mercato, chiamerei un ritrovo di amici, mettiamola così. Poi quest'anno ci sono state anche delle altre iniziative e quindi c'è stata un po' di dispersione, un po' di confusione, mettiamo questo termine. Ci sono sempre meno squadre, basta dire che la Castellettiesi non si è uscita la promozione, è una squadra che ha fatto per sei anni consecutivi la Serie D, per tanti anni l'eccellenza e questo è un po' un segnale di un calcio che cambia. Fortunatamente abbiamo il Gozzano che rappresenterà la parte alta della provincia nel campionato professionistico di Serie C, lo Stresa che dopo oltre un secolo si presenta in asti di partenza del campionato di Serie D e queste sono due belle realtà. L'eccellenza ritrova il Borgo Manero, proprio qua dove siamo di casa e quindi credo che una piazza come Borgo Manero, io mi ricordo quando ho cominciato questo mestiere nel lontano 1975, ho fatto tempo, c'erano le targhe alterne in quel periodo, negli anni Ottanta e venivo da Oleggio Castello dove abitava Borgo Manero a piedi o in bicicletta a vedere il Borgo Manero di Buoso, di Erbetta, di Giampiero e Fabrizio Erbetta, approvisionato, di Giromini e quindi di Stabile, di Maino, Bellesso, di Rigiretti, di Garavaglia e quindi credo che accogliamo con grande piacere la presenza del Borgo Manero e di altre società che speriamo tengano vivo il vessino del calcio novarese, del Verbano Cusi Ossola. Il libro? Ma il libro credo innanzitutto, voglio dire, non l'ho mai detto ma questa volta mi sento di dirlo, devo ringraziare Giacomo Baraggioli perché senza Giacomo Baraggioli questo libro non uscirebbe, devo ringraziare gli inserzionisti perché senza gli inserzionisti, che sono tanti, alcuni affezionati lo fanno da anni, diciamo che io sono quello che magari si impegna a coordinare questo libro che è oltre 30 anni, io sono partito ai tempi pionieristi, che l'ho fatto anche con Roberto Cominoli che sta facendo anche lui, a sua volta un altro libro importante da anni con Nicola Binda, Uomini e Gol, però credo che senza gli inserzionisti, senza il lavoro straordinario che fa Giacomo Baraggioli e poi l'agenzia che cura, che è Vito Fanelli col suo gruppo, questo libro non uscirebbe.